È un appello che è consueto di ogni anno, prima delle vacanze o appena rientrati delle vacanze, è fondamentale la donazione. Perché i nostri malati non vanno mai in ferie, quindi è doveroso e morale da parte nostra fare questa donazione che in particolar modo anche per incidenti e altri motivi il sangue in questo periodo manca sempre, di solito. Avete sentito? Donare il sangue è importante tutto l'anno, ma ad agosto è fondamentale perché le malattie non vanno in vacanza e le emergenze non diminuiscono nonostante il solleone. L'appello arriva direttamente dalla FIDAS, la Federazione Italiana dei Donatori di Sangue, che in questo periodo ricorda a tutti i donatori l'esistenza di un'app che permette di ridurre i tempi della donazione a poco più di un'ora. Dicevo proprio un'ora si fa tutto perché con l'app, che uno si può scaricare tranquillamente nel proprio iPhone, il donatore può prenotarsi il giorno, il luogo, l'ora e il tipo di donazione in qualunque centro di Vicenza e provincia. Quindi una cosa molto molto semplice. L'app la trovano nel sito www.fidesvicenza.com, se la possono scaricare tranquillamente, ci sono piccoli passaggi, c'è anche un vademecum in cui il donatore può tranquillamente scaricarselo. E' bene comunque ricordare perché è importante donare il sangue tutto l'anno. E' importante perché non solo per operazioni chirurgiche, ma anche per altri tipi di malattie, tipo emofilieci e talassemici, la trasfusione di sangue è vitale per la loro vita, per tutto il periodo dell'anno. Quindi in questo periodo in cui i donatori sono più presi da riposo di agosto, è fondamentale proprio dare continuità a tutto questo rispetto ad altri periodi dell'anno. Resta da capire come mai le donazioni diminuiscano in modo sensibile in questo periodo dell'anno. Le ferie da sempre sono momenti di pausa, di riflessione e di riposo, quindi anche i donatori fanno i riposi in agosto. Noi invece però abbiamo questo obbligo, secondo me, che si può fare il riposo ma facendo anche una donazione di sangue, che è molto semplice e in un'ora si fa tutto.